Amici di Milan Channel, bentornati all'appuntamento con i grandi eventi realizzati dal Milan. Stiamo per seguire una delle prime partite del Milan di Arrigo Sacchi, Milan Tottenham. Ecco le formazioni, il Milan scende in campo con Galli, poi sulla linea dei difensori Tassotti, Costa Curta, Baresi e Mussi. Sulla linea dei centrocampisti Donadoni, Colombo, Raikard e Vani, in avanti Van Basten e Virdis. Van Basten era alle prime uscite con la maglia rosso-nera e adesso seguiamo insieme la formazione del Tottenham. Mims in porta poi sulla linea dei difensori Mabot, Fenwick, Fairclough, Euton. A centrocampo Waddle, Allen, Gascoigne, Thomas, in avanti Walsh e Stewart. Una grande formazione anche questa che ricalca un po' le grandi formazioni degli anni 70 e 80 inglesi. Questo è il numero 7, Walsh, uno dei migliori giocatori della formazione del Tottenham. E insieme, dicevo, seguiremo questa prima uscita del Milan. Era il 14 agosto del 1988, lo stadio quello di Wembley. Questo invece è il direttore di gara. Tutto è pronto per cominciare questa sfida, una delle prime sfide della stagione. Courtney è l'arbitro dell'incontro, partiti. E il Tottenham che gestisce per primo il pallone sulla linea di centrocampo. Milan, che fin da queste prime battute, ha cercato subito di aggredire le avversarie. Quello che poi ha caratterizzato la squadra di Enrico Sacchi. Da lì il Milan ha cominciato a vincere una serie incredibile di trofei. E Mims adesso che si appresta al rinvio. Palla lunga, scavalca la linea di centrocampo. Il colpo di testa di Franky Rijkaard. Palla ancora che viene recuperata dal centrocampista olandese. Van Basten intanto è andato al colpo di testa. Il controllo sulla destra è di Waddle. Anche lui uno dei migliori giocatori d'Inghilterra. Waddle si accentra in trenare di rigore. Il tocco mancato vicino alla linea di porta da parte di Walsh. E poi sul secondo palo non sono riusciti a intervenire altri due compagni del giocatore inglese. Ecco il replay. Per ultimo Thomas non è riuscito ad impattare bene il pallone. Questo il tocco mancato. E poi Walsh che sottomisura. Manca l'appuntamento con il pallone. Prima grande opportunità per il Tottenham. dopo un minuto di gioco. Il Milan adesso torna in possesso di palla e prova ad avanzare. Da Costa Curta in direzione di Evani. In verticale il tocco per Donadoni. Poi ancora Costa Curta. Costa Curta che in questa occasione si è spostato sulla linea laterale sinistra. Van Basten adesso va al contrattacco e entra in area di rigore. Il dribbling sul diretto avversario. Van Basten prova il tiro. Riesce Mims a deviare in corner. Van Basten si è fatto subito vedere. Si è fatto subito notare. In uno stadio così importante come quello di Wembley. Questa è l'azione al replay. Il dribbling a rientrare di Van Basten. Che è riuscito a deludere l'intervento di Fairclou. Il tiro poi è stato deviato da Mims in corner. Primo calcio d'angolo quindi della partita. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo. Donadoni sul pallone. Il tocco per Alberigo e Vani. Le sue finte. Il retropassaggio poi ancora per Donadoni che fa girare palla. Costa Curta con l'esterno. Il pallone viene messo fuori dall'area di rigore. Riparte adesso il Tottenham sulla destra. Ancora Waddell fermato. In un primo momento da Evani. Lo stesso giocatore poi riesce a riconquistare la sfera con un duello fisico. Thomas costretto all'intervento in scivolata. Poi è Mussi che sulla destra riesce a recuperare un buon pallone per Van Basten. Rijkaard in verticale. Ancora Van Basten anticipato ma si era alzata la bandierina del guardaline per determinare il fuorigioco. Milan ancora in pressing. Van Basten recupera con l'ausilio di Mussi. Adesso Colombo. Milan che sviluppa questa azione sulla destra. ha un'incomprensione tra il biondo centrocampista rosso-nero e Mussi. Ha regalato così la rimessa in gioco al Tottenham che torna ancora in possesso di palla. C'è un giovanissimo Gascogne che milita all'interno del centrocampo del Tottenham. Gascogne che ha intrapreso poi una carriera fantastica. Rovinata soprattutto per il suo lato caratteriale. spesso al centro di polemiche, al centro dell'attenzione che non era sicuramente positiva per quello che riguardava il suo vivere al di fuori del campo. Intanto Rijkaard a centrocampo perde il contrasto ancora a Waddle che per l'occasione si è spostato in una posizione un po' più arretrata rispetto a quella sua abituale. Il fuorigioco viene segnalato dall'altro guardaline ma l'arbitro ha lasciato correre per la norma del vantaggio. Infatti il pallone è terminato sul fondo del campo. Ecco il coeduvatore dell'arbitro che aveva alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco. Il colpo di testa poi di Fairclough, quello di Rijkaard, l'intervento di Mabot. Poi ancora Rijkaard che giganteggia al centro del campo. Waddle. Tottenham che torna ancora in possesso di palle. Inquadrato il capitano Mabot. Giocatore che abbiamo visto intervenire prima su un pallone vagante a centrocampo. Rijkaard rimane l'inquadratura sul numero 6 del Tottenham. Intanto c'è il gioco fermo per un fallo fischiato a favore del Milan. Rijkaard in verticale. Pallone morbido a cercare l'inserimento di Van Basten che era rimasto in posizione centrale. Ancora Rijkaard va a recuperare il pallone. Lo fa in maniera regolare. Il tocco in direzione di Virdis. Si fa vedere poi Evani. Palla in orizzontale per lui. Evani al limite dell'area. Costretto la Veronica. Va al tiro. Mette in difficoltà Mims. E poi Fenwick riesce a ribadire in corner. Una grande giocata del Milan che si è sviluppata in velocità. E' riuscito Evani a deludere l'intervento del capitano del Tottenham con una Veronica e poi di sinistro ha calciato in porta. La deviazione di Mims è stata poi definitivamente messa in corner da Fenwick. Ancora Evani va alla battuta dal calcio d'angolo. Osserva la disposizione dei compagni. Mette a terra il pallone in uno stadio storico. Lo ricordiamo. Si giocava il 14 agosto del 1988 a Wembley. Il colpo di testa di Virdis che impegna in presa. Mims ha qualcosa da dire suoi. L'estremo difensore del Tottenham. Virdis si è trovato da solo all'interno dell'area di rigore. Forse anche uno schema che le ha permesso di liberarsi dalla marcatura. Adesso il lancio in verticale controllato di testa da Tassotti. Poi Mussi cerca di calciare il pallone lontano ma termina solamente in fallo laterale. Milan che torna nella sua metà campo per fronteggiare l'avanzata del Tottenham. Una delle prime partite, lo ricordiamo, della gestione Sacchi. L'anno precedente al suo primo anno in rosso-nero a Rigo Sacchi aveva vinto lo Scudetto. Questa è la stagione che determinerà la conferma per quello che riguarda il lato tecnico e il lato tattico soprattutto di una gestione che ha dato davvero grandi risultati. Tricolore sul petto rosso-nero, inquadrato intanto Pietro Paolo Virdis che fa i complimenti a Devani per aver giocato il pallone in diagonale in precedenza. Tottenham che però è tornato a recuperare la sfera. Il colpo di testa ancora di Rijkaard, Frank Rijkaard al suo primo anno. Tre olandesi per comporre una formazione incredibile. L'anno precedente c'erano solamente Van Basten e Gullit. Intanto seguiamo ancora il Milan con Virdis che viene anticipato all'interno dell'area di rigore. Poi Rijkaard va al tiro contro la Mims, la sfera. Dicevamo di Rijkaard che ha raggiunto un anno più tardi Van Basten e Gullit per formare così il trio delle meraviglie. Il trio olandese che tanti successi ha portato in viaturati e non solo. Nello stesso anno l'Olanda diventò anche campione d'Europa con grandi prestazioni proprio di Ruud Gullit, Frankie Rijkaard e Marco Van Basten. Mims adesso al rinvio. Giocatore destro. Lo si è potuto notare dal calcio lungo. Intanto Evani recupera il pallone a centrocampo per Colombo. Azione in verticale. Colombo non riesce a raggiungere il pallone di ritorno servitogli dal compagno. Si trattava ancora una volta di Van Basten che accentra su di lui tutte le azioni rossonere. Adesso Tassotti per Baresi, il grande capitano. In verticale ancora Rijkaard aveva trovato lo spazio giusto. Marco Van Basten nel quale inserirsi ma si è forse alzata la bandierina del guardaline per segnalare il fuorigioco. Ha lasciato comunque correre l'arbitro. Un altro rinvio lungo. Lottano Costa Curta e Gascogno. Lo stesso numero 8 è riuscito a calciare subito. Manca l'intervento di testa poi Walsh. Pallone che termina sul fondo dopo la deviazione in calcio d'angolo. Ancora Walsh che è andato vicinissimo al gol per ben due volte. In entrambi i casi ha mancato l'impatto con il pallone. Tottenham che gioca soprattutto in verticale, in contropiede. E Milan che gestisce la sfera. Intanto Waddle va a chiamare uno schema. Alza l'indice. Palla sul primo palo. Riesce a respingere Frankie Rijkaard. Poi prova una soluzione piuttosto goffa. Si trattava di Allen che aveva calciato forse in porta. La palla poi è terminata sulla sinistra. E si ricomincerà con la rimessa da fondocampo di Giovanni Galli. Già effettuata per Rijkaard. Adesso Tassotti. L'1-2 con Donadoni. Milan che si è disposto come suo solito con il 4-4-2. Palla di Tassotti intercettata da Stewart. Poi Walsh alleggerito per i compagni sulla linea difensiva. Adesso il lancio lungo di Thomas che trova però solo la testa di Tassotti. E il Milan che continua a fare gioco. Rijkaard in verticale. Si fanno vedere Donadoni e Virdis. C'è il taglio del numero 11 rosso-nero. anticipato però una palla che è rimasta a metà tra Donadoni e Pietro Paolo Virdis. Tottenham che prova ad uscire ancora dalla sua metà campo con Waddle. Palla in mezzo dove c'è l'intervento di Colombo. Recupera poi Baresi. E Milan con calma comincia ancora a costruire. Avanza Muss adesso. Il tocco vicino per Rijkaard di prima. Molto bene per Van Basten. Ha provato a superare un avversario. Lo fa anche Mussi che viene messo a terra. Vediamo la decisione dell'arbitro. C'è forse un fallo ai danni del giocatore con la maglia numero 3. Vediamo l'arbitro ha preso la decisione di far calciare al Milan la punizione vicino alla linea laterale. Sulla palla adesso si portano sia Donadoni sia Chico e Vani. Una soluzione che spesso il Milan prova da quella posizione. Così come sui corner ci sono degli schemi abbastanza fissi che hanno prodotto un gran numero di gol per le maglie rossonere. E Vani porta palla, riesce a mettere poi in mezzo, respinge Waddell che si era portato addirittura in area di rigore per respingere questa punizione. Poi il tocco indietro per Mims. Ricordiamo ancora la partita viene giocata a Wembley il 14 agosto del 1988. Risultato ancora fermo sullo 0-0. Va allo stacco Stuart, poi Baresi che appoggia indietro a Giovanni Galli. Finisce a terra il capitano del Milan. Nessun problema per lui. Adesso ancora Evani sulla sinistra. Il movimento di Virdis per creare lo spazio. Donadoni riceve. Allarga sulla destra dove scende Tassotti. L'appoggio in verticale ancora a cercare Marco Van Basten che entra in area di rigore. Elude l'intervento di Juton. Poi il traversone di Colombo. Il controllo di Virdis. Palla morbida in rete. Mims è stato battuto da Pietro Paolo Virdis. Milan che è andato in vantaggio sul traversone di Colombo. E poi il tocco finale di Pietro Paolo Virdis. Milan 1-Tottenham a 0. Questo è il replay del gol. Il traversone con il sinistro di Angelo Colombo. Manca completamente l'intervento Faircloth. Pietro Paolo Virdis non ha difficoltà ad arrestare il pallone al centro dell'area di rigore. E poi ad appoggiare con un tocco leggero, con un tocco di piatto nell'angolino alla destra di Mims. Nulla da fare quindi per l'estremo difensore del Tottenham. Milan 1-Tottenham a 0 all'undicesimo minuto di gioco. Milan che cerca di aggredire ancora l'avversario per evitare che possa portare degli attacchi. L'ha fatto molto bene adesso Rijkaard che fa viaggiare sulla sinistra Evani. Un'occhiata all'accento dell'area di rigore. Attende che arrivi anche qualche compagno. Entra in area. Poi le tocco per Rijkaard che con il sinistro spara alto. Una buona iniziativa ancora dell'olandese che ha dato avvio a quest'azione sulla fascia sinistra. Ha messo in moto Evani. La palla poi è tornata ancora a Frenkie Rijkaard che ha calciato ma alto. Questo invece è Pietro Paolo Virdis. L'autore del gol che fino a questo momento ha sbloccato la partita. Milan che comincia a far vedere quanto di buono poi ha fatto per moltissimi anni. Qualcosa di buono per la verità l'aveva già fatto nel corso della stagione precedente. 87-88. E per testimoniare questo c'è lo scudetto sulle maglie. La palla in verticale ancora per Van Basten. Il dribbling ai danni di Mims supera ancora il portiere. Van Basten va al raddoppio. Milan 2 Tottenham 0 dopo 12 minuti di gioco. Una grande iniziativa ancora in verticale di Rijkaard che ha messo un pallone d'oro alle spalle della difesa. Van Basten non ha avuto problemi. Si è inserito molto bene. Il dribbling elegante ed efficace del numero 9. E poi il tocco senza problemi alle spalle di Mims. Van Basten quindi porta due gol al dodicesimo minuto. Questo ancora il replay. Il controllo di Rijkaard e il taglio. Bastava solo uno sguardo fra i due giocatori per far vedere qual era la loro decisione. Qual era il movimento di Marco Van Basten. Questo è l'emblema della loro grande carriera. Palla in verticale. Van Basten 2. Tottenham che rimane quindi a secco. Tottenham costretto ad inseguire. Non è facile contro un Milan così. Adesso Baresi. Il tocco con l'esterno Milan che continua a macinare gioco. Nonostante il Tottenham abbia bisogno di recuperare. Nonostante ci sia grande voglia di dimostrare al pubblico londinese un gran bel gioco. Il Milan continua a farla da padrone. Milan che non si accontenta. Vuole proseguire. Lo fa adesso con Colombo anticipato però. da Fairclough sulla destra. Inquadrato ancora Marco Van Basten. Il Tottenham adesso riprende le operazioni di gioco con Mims che allarga con le mani sulla destra per Mabut. Alcuni giocatori del Tottenham sono entrati poco in partita nel corso di questi primi 15 minuti. Il Milan è riuscito a chiudere i varchi necessari alla squadra di Kassi. Così si può dire anche se lo stadio è quello londinese. Il Milan è riuscito ad arrestare tutte le avanzate dei giocatori con la maglia gialla. Grazie alle direttive di Arrigo Sacchi in panchina. Un allenatore che ha basato tutto sulla tattica ancora prima che sui giocatori. Una grande importanza però. L'hanno avuta proprio gli uomini che Arrigo Sacchi ha potuto disporre. Non sarebbe stato facile vincere tutto quello che è stato vinto senza l'ausilio di calciatori importanti, determinanti come Marco Van Basten, Frankie Raikard, Franco Baresi, Ruth Gullit. Per la grande voglia che ci ha messo, per il grande impegno che ha contraddistinto le sue stagioni in rosso-nero anche di Angelo Colombo, un giocatore spesso non troppo citato. Pietro Paolo Virdis con i suoi gol ha regalato grandi emozioni ai sostenitori rossoneri. E anche in questa partita abbiamo visto Pietro Paolo andare in gol per l'1-0, messo a segno contro il Tottenham. È arrivato poi il raddoppio di Marco Van Basten. Tottenham che adesso riprende il gioco con una punizione sulla tre quarti. Se ne incarica Fairclow. Le telecamere intanto indugiano ancora su Pietro Paolo Virdis. Palla in verticale e cerca di spizzicare il pallone Stewart. Agevola così l'intervento di Giovanni Galli. Un altro giocatore importante per la società di Viaturati. Senza dimenticare i vari Donadoni, Evani, Ancelotti. Insomma, una grande formazione che è andata ad imporsi in tutto il mondo. Intanto il rinvio di Costa Curta a Van Basten ancora entra in possesso di palla. Fermato solo per un attimo da Fenwick, Van Basten attira su di sé tutti i difensori. Poi porge palla a Rijkaard in verticale per Colombo. Arriva sul fondo il traversone, respinge in corner Mabut, il capitano del Tottenham. Grande apprezzione tra i difensori inglesi e Milan che prosegue negli attacchi. Da Evani il tocco per Costa Curta all'1-2 con Colombo. Palla dentro, Van Basten non ci arriva. In uscita bassa, Mims blocca il pallone al centro dell'area di rigore. Un altro bel pallone giocato da Angelo Colombo al centro dell'area. Si era liberato anche Costa Curta andando a cercare l'1-2. Colombo ha preferito mettere basso in area di rigore per l'intervento di Marco Van Basten che è stato però anticipato dalla portiera. Il colpo di testa di Costa Curta, il rinvio di Mussi a centro campo in una zona dove presidia Fenwick. Un quadrato intanto il mister del Tottenham. Sul fondo i giocatori del Milan. Tottenham che ricordiamo è costretto ad inseguire in questa partita per ben due volte. il Milan è andato in rete. Quindi Milan 2 Tottenham 0 in uno stadio glorioso come quello di Wembley. Barese adesso. Gioco allargato sulla destra per Mussi. Errato il tocco del numero 3. Gascogna l'1-2 con Walsh. Ancora Gascogna si accentra. Prova ancora l'avanzata ma c'è il fuorigioco. Fischiato a Stewart. Sembra non essere molto d'accordo con il guardaline. Bene richiamato anche la calma dall'arbitro. Prosegue però con le proteste. Stewart maglia numero 10 per lui. Il passaggio di Gascogna non era male ma si è trovato al di là della linea dei difensori rossoneri. Il controllo elegante ancora una volta di Van Basten che tenta di superare il capitano. Adesso è Costa Curta. Palla dentro. Il colpo di testa ancora a liberare la propria zona. Stewart anticipato da Baresi. Rijkaard che giganteggia ancora una volta a centrocampo. Poi Fairclough allarga sulla sinistra per Fenwick. Palla in verticale. L'anticipo di Tassotti. Non c'è fallo dice l'arbitro. Si prosegue con Gascogna in dribbling. Affronteggiato da Mussi. Lo salta. Stewart palla dentro. L'anticipo poi di Mussi che disimpegna su Giovanni Galli. In verticale subito con le mani a cercare Donadoni. Rijkaard. Milan che appena può riparte in verticale. Adesso il lancio sulla sinistra a cercare Alberigo Evani. Troppo largo il pallone che termina oltre la linea laterale. Rimesso in gioco con le mani di Mabut per Fairclough. Alleggerimento ancora per Fenwick. Sulla sinistra adesso Juton. Cerca l'appoggio di un compagno. Lo trova in Gascogna ma c'è anche l'anticipo di Mussi. Poi si avventa sulla sfera anche Pietro Palovirdis che è costretto a lottare. Mabut ancora. Intercetta per un attimo Evani. Poi c'è anche l'intervento in scivolata di Virdis. Tutto questo aiuta il centrocampo del Milan che può salire con il pressing portato soprattutto da Frankie Rijkaard. Milan che ha fatto del pressing l'arma vincente. Sono tante, tantissime le partite che si possono ricordare. Con due, tre giocatori del Milan, anche quattro in certi casi che aggredivano il portatore di palla. È stata sicuramente una grande invenzione. quella di Sacchi o comunque una modifica importante se non un'invenzione, una modifica che è stata seguita poi da molti altri allenatori. Intanto se ne va Baresi sulla sinistra. È fronteggiato da Mabut. Baresi poi cerca di mettere il pallone in mezzo. Viene intercettato ancora una volta da Ferklou, vera colonna del Tottenham sulla linea dei difensori. Ancora il Tottenham. Walsh riesce a deludere l'intervento di Mussi. Ancora Walsh che poi incespica sul pallone. Recuperato a Sotti per Rijkaard. in diagonale, dove c'è Chico Evani. Si fa vedere, incontro. Virdis, Evani preferisce lanciare, cercare Van Basten. Marcato a distanza ancora Van Basten. Sulla destra Rijkaard. Il tocco morbido per l'olandese. Ancora Rijkaard attaccato da Fenwick. Fenwick, poi Van Basten. Evani, palla dentro. Per Donadoni il dribbling. Viene messo a terra Roberto Donadoni. È stato anche agganciato. C'era forse l'intervento falloso. Poteva essere fischiato anche il calcio di rigore. Vediamo il replay. Il passaggio di Evani. Il controllo con l'esterno di Donadoni. Sul quale poi interviene direttamente Mabut. L'arbitro però ha preferito lasciar correre Roberto Donadoni. Sembra un po' perplesso il sorriso ironico sul suo volto. E adesso è Waddle che porta palla. Il dribbling ma lo ferma Chico Evani. Non riesce a mantenere viva la palla. Non riesce a mantenerla sul terreno di gioco. Rimessa laterale quindi ancora per il Tottenham. Trascorre il tempo. Siamo giunti al ventiduesimo minuto. Milan ancora in vantaggio per 2-0. Le reti di Pietro Paolo Virdis e Marco Van Basten. Adesso in verticale. Evani a cercare Virdis. Anticipato da Mabut. Poi si lascia cadere il capitano. Vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. È stato fischiato il fallo. La palla poi viene giocata ancora a Mims. Che con le mani la allarga sulla sinistra. Dove c'è Jutton. Porta palla il numero 3 del Tottenham. Il tocco indietro per Fenwick. Ed eccolo Ruud Gullit in cuffia. Ruud Gullit che sta seguendo le gesta dei suoi compagni. Gullit ha avuto un ruolo davvero determinante l'anno precedente. Nel 1987-88. In quel campionato nel quale è stato scoperto un giocatore fantastico. Uno di quelli che ha determinato la vittoria dello Scudetto. Van Basten intanto fermato in posizione di fuorigioco. Il calcio di punizione verrà calciato dalla tre quarti. Proprio da dove l'arbitro ha fermato il gioco. Azioni già riprese. Con Allen che alleggerisce per Mabut il disimpegno. E guardate come il Tottenham è costretto a rimanere ancora nella sua metà campo. Il Milan tiene la difesa molto alta. Questo comporta anche un rischio maggiore per i giocatori con la maglia gialla di terminare in fuorigioco. Ma è il Milan che incredibilmente riesce a recuperare un numero molto alto di palloni a centrocampo. E poi a portare gli attacchi. Sulla destra si fa vedere Mussi. Riceve da Ivan il controllo con il petto. Poi viene fischiato il fuorigioco. Molto dubbio in questa occasione. Mussi lascia il pallone alla difesa del Tottenham ma torna nella sua posizione naturale, quella di difensore. Ha avuto comunque una buona intuizione precedentemente Mussi facendosi vedere sulla destra. E puntualmente era arrivato il lancio di Alberigo Ivani. Intanto qualche problema alla scarpa di Hilton. L'arbitro attende che se l'allacci per riprendere il gioco. Inquadrato di spalle il numero 9 Waddle. Gioco ripreso nel frattempo con Fenwick. Uno sguardo alla posizione dei compagni. Poi il lancio non è preciso. Libera dalla propria area di rigore Mussi. Stacca di testa Virdis con Fenwick. Passa il pallone recuperato poi da Hilton. Un altro lancio in verticale che agevola sicuramente la difesa del Milan. Adesso è Walsh in contrasto con Colombo. Se ne va Walsh in verticale. Riceve ancora ma è controllato da Tassotti. Molto più veloce di lui è andato ad alleggerire su Giovanni Galli. Si è alzato intanto un po' di vento sullo stadio di Wembley. Non dà comunque fastidio ai giocatori. Si riprende con il Tottenham Waddle. Passaggio in verticale intercettato da Franco Baresi. Poi Rijkaard questa volta è errato il suo disimpegno. Gascogne. Il tocco sulla sinistra per Walsh. Se ne va. Viene fermato però ancora una volta da Mussi. Molto attento il giocatore che viene impiegato sulla destra da Colombo in diagonale sulla sinistra. Far correre Evanni la sovrapposizione dopo il passaggio verso Costa Curta. Adesso è Donadoni. Lo scatto di Virdis. Pala dentro a cercare ancora il compagno che viene anticipato da Ferclow. Riesce a liberare in qualche modo ma ancora una volta la difesa rossonera con Costa Curta che va a recuperare la sfera. Baresi le sue finte. Il tocco con l'esterno sulla sinistra. Palla sul lungo linea. Non può essere raggiunta da Pietro Paolo Virdis. Inquadrato intanto Franco Baresi. Considerata la bandiera del Milan. Franco Baresi ha disputato 20 campionati con la casacca rossonera ed è entrato di diritto nel cuore dei tifosi prendendo il posto di un altro grande degli anni 70, Gianni Rivera. Eccolo inquadrato. Franco Baresi. Maglia numero 6 per lui. Una casacca storica. Una casacca che poi è stata ritirata da quando Baresi ha lasciato il calcio. E' proprio il capitano che calcia questa punizione in direzione di Tassotti. Poi Donadoni riceve. Cerca di creare una nuova opportunità da gol per il Milan. Tassotti prova l'1-2 con Van Basten. Questa volta è fermato da Gascogne. Se ne va Waddle adesso. Lancio sulla sinistra a cercare Thomas che riesce a mettere il pallone in mezzo ma senza creare problemi alla retroguardia rossonera. Thomas torna verso la sua posizione. E' stato proprio il giocatore con la maglia numero 2 a fallire la prima grande opportunità della partita dopo neanche un minuto di gioco. Il Tottenham è andato vicino alla rete. Prima con Walsh che non ha raccolto il traversone dalla destra. E poi a porta sguarnita. Thomas ha impattato il pallone mandandolo alle stelle. Mandandolo sopra la traversa di Giovanni Galli. Galli che adesso calcia lungo. Il colpo di testa di Donadoni toccata solo per poco per il giocatore di Donadoni. Il regolare di Stewart fermato per l'ennesima volta in fuori gioco. Questa volta non ha reclamato. Cerca di recuperare verso il centro del campo. Donadoni intanto viene fermato ancora dal colpo di testa di Fairclow. E Vani adesso la rimessa con le mani. Costa curta. Centrale per Rijkaard. Riesce a girarsi. Attaccato alle spalle da Allen. Riesce ad intercettare il pallone. Ma non lo fa nella maniera regolare. Da qui la punizione. Fischiata ancora per il Milan. Baresi ancora con l'esterno. Aggancia molto bene. Questa volta il capitano Mabut. Il disimpegno verso Fenwick. E il Tottenham è costretto a rimanere nella sua metà campo. Si è affacciato davvero poche volte nell'area del Milan. L'ha impensierito solamente nell'azione che abbiamo descritto precedentemente dopo un minuto di gioco. Da lì poi si è spento pian pianino. Ed è cresciuto sempre di più il Milan. che è andato a realizzare ben due gol nel giro di un minuto con Virdis e con Van Basten. E il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Donadoni. Posizione di centrocampo per lui. Atteso il rinvio di Galli. Adesso è Juton che lancia in verticale. Palla controllata da Mussi. Alzano le braccia i giocatori del Milan per un presunto controllo con la mano da parte di Gasconi. In scivolata poi Tassotti rimedia. Rijkaard non si avvede del ritorno di Thomas. Gli soffia il pallone ma a ogni presente è Franco Baresi che riesce a fermare un'altra sortita del Tottenham fermato come sempre sulla trequarte. Ancora il Milan Colombo desiste. Non va alla caccia del pallone. Era un po' improbabile raggiungere la sfera con il vantaggio che aveva Juton. Adesso Fairclough sulla sinistra per Thomas di prima bene a cercare il numero 11 Allen che aveva pensato bene di tagliare al centro del campo per creare lo spazio. È sempre importante per i giocatori senza palla il movimento per dare la soluzione per dare più soluzioni ai portatori della sfera. Adesso Evani il disimpegno su Rijkaard palla in orizzontale quasi intercettata da Thomas l'ha recuperata comunque Tassotti palla dentro il controllo con il petto di Pietro Paolo Virdis si alza ancora una volta la bandierina non reclama Virdis che applaude anche l'arbitro per aver visto giusto una posizione comunque dubbia quella del milanista. Adesso è Allen sulla centrodestra si fa vedere largo Waddle la sua classica andatura arriva sul fondo il traversone il colpo di testa sulla sinistra di Stewart disturbato però da Mussi vediamo se si tratta di calcio d'angolo forse l'ultimo a toccare è stato proprio Stewart e infatti anche Waddle ritorna in posizione centrale buona la sua sgroppata sulla destra è arrivato fino sul fondo ha poi messo dentro un pallone che è arrivato sul secondo palo controllato con la testa da Stewart che però non ha potuto far nulla per mantenere il possesso di palla ancora il milan adesso con Van Basten da Costa Curte in verticale ad Evani lunghi fraseggi a centrocampo anche in uno spazio ristrettissimo d'altronde il milan è dotato di calciatori che tecnicamente non hanno nulla da invidiare anzi riescono a fare quello che vogliono con il pallone per questo hanno la possibilità di dialogare anche in spazi molto ristretti Gascogne adesso una finta per liberarsi di Mussi poi il tocco di Juton che riesce ad andare via da solo ma viene fermato il sorriso anche sul volto di Juton come dire non potevo essere in fuorigioco e si è alzata però la bandierina Juton si era lanciato da solo scavalcando la difesa del milan con un delizioso pallonetto ma probabilmente qualcuno in fase d'attacco si trovava oltre la linea dei difensori adesso Werdis prova ad andare alla caccia del pallone anticipato da Juton che ha toccato in direzione di Mims il rilancio adesso del portiere un'occhiata ai compagni attende qualche istante poi puntuale arriva il lungo rinvio il tocco di Tassotti per Rijkaard in verticale subito a cercare l'inserimento di una delle due punte Van Basten o Werdis la palla però è terminata in una zona morta preseduta solo da Fenwick ancora Fenwick alle spalle di Van Basten duro l'intervento da dietro l'arbitro lascia correre ora è Stuart che manca l'aggancio con il pallone Donadoni al contrasto a centrocampo vinto Evani supera la linea di metacampo si fa vedere anche Roberto Donadoni un'altra sovrapposizione di Evani Milan che mette ancora in difficoltà il Tottenham sulla sinistra con Evani uno sguardo verso il centro Donadoni va a calciare c'è l'attacco alle sue spalle del difensore non ha potuto calciare liberamente Roberto Donadoni che aveva controllato con il destro e poi ha provato a battere con il sinistro Waddell tornato addirittura in difesa e Tottenham che continua a non trovare i varchi per andare in verticale o comunque per portare un serio pericolo al Milan intanto si distingue per un buon controllo palla Gasconi che avanza fino ad arrivare sulla tre quarti palla in verticale la posizione di Thomas è buona entra in arri di rigore palla dentro l'uscita di Giovanni Galli impedisce il contatto con il pallone a Stuart che si trovava sul secondo palo adesso sulla sinistra Evani ancora inesauribile la sua corsa Evani era partito all'inizio della sua carriera come terzino poi è stato spostato via via più avanti fino ad arrivare ad essere un ottimo centrocampista e giocare in alcune occasioni ancora nel suo ruolo in fascia sinistra questo gli permette di mettere in mezzo palloni fantastici grande sensibilità da parte di Chico Evani un piede come si suol dire felpato intanto è Gasconi con l'esterno a cercare Thomas messo a terra da Mussi l'arbitro lascia correre ancora le finte ripetute di Juton che se ne va sul fondo mette in mezzo senza problemi Franco Baresi respinge per Raikard poi calcia lungo proprio Chico Evani c'è l'intervento in gamba tesa dell'avversario rimane a terra il numero 10 rosso nero speriamo non si tratti di nulla di grave Evani è rimasto a terra occorre l'intervento dei sanitari arriva come sempre succede il dottor Monti un problema al collo del piede probabilmente per Chico Evani che dopo aver calciato il pallone è andato ad impattare contro il piede dell'avversario che era in posizione irregolare intanto sulla sinistra Ramaccioni le panchine dei giocatori sono vicine sono in prossimità della linea laterale Franco Baresi adesso si appresta a calciare la punizione intanto zoppica Chico Evani ma riesce a rimanere in campo un quadrato ancora Franco Baresi ora è Tassotti il tunnel tentato è riuscito ai danni di Walsh perdono palla poi a centrocampo i rossoneri una giocata non troppo felice da parte del Milan che ha permesso adesso a Waddle di andare veloce sulla destra salta anche Costa Curte il lancio sulla sinistra cercare Thomas non è in posizione irregolare Thomas arriva sul fondo il traversone il colpo di testa poi di Evani che libera Gascogna recupera sale in blocco la squadra del Milan guardate come sale il pressing Baresi recupera poi la palla in profondità di Fenwick è controllata da Giovanni Galli ma era terminato nella trappola del fuorigioco Waddle ecco il numero 9 che era terminato oltre tutti i difensori Franco Baresi adesso è stato davvero impressionante vedere salire tutte le maglie rossonere in linea tempi dettati dal capitano da Franco Baresi schemi provati e riprovati nel corso degli allenamenti proprio da Arrigo Sacchi che come detto è sempre stato un amante di tattica e i risultati le hanno senza dubbio dato ragione lo ripetiamo però con l'ausilio di campioni veri campioni sotto il profilo tecnico tattico ma anche sotto il profilo umano il Tottenham intanto ha perso un'altra palla sulla linea di metà campo Raikard va all'impostazione Van Basten punta la difesa del Tottenham che si dispone in linea un altro 1-2 Van Basten ancora poi c'è il ritorno su di lui di Mabut un'altra grande giocata dell'olandese che era riuscito a penetrare all'interno dell'area di rigore vediamo l'1-2 di Van Basten con Virdis il pallone li ritorna ma li rimane dietro non riesce a portarlo in avanti il terreno non è dei migliori per l'occasione adesso Evani saltanetto Walsh Donadoni palla dentro in verticale a cercare Colombo la posizione è irregolare fischia l'arbitro si ricomincerà quindi con il calcio di punizione già battuto sulla destra Waddle il tocco poi per Mabut Tottenham che è costretto ai lanci lunghi per saltare quella che può essere tranquillamente considerata una diga quella di metà campo del Milan ancora Stewart di fronte a sé Barese costa curta poi il tocco in orizzontale interviene Mauro Tassotti a liberare il colpo di testa poi di Van Basten costa curta in sovrapposizione a Roberto Donadoni ancora costa curta il passaggio poi per Van Basten che la gioca in verticale a cercare Frankie Reichard si sono scambiati i ruoli per l'occasione Van Basten ha provato a fare da suggeritore per il compagno del Milan e per il compagno di Nazionale Fairclough uno sguardo ai compagni costretti ancora una volta a passarsi il pallone Milan ha disposto perfettamente sul campo adesso è Tassotti che va a chiudere la diagonale dopo il lancio indirizzato a Thomas il tocco per Walsh che va al tiro lo calcia con forza ma con poca precisione eccolo Walsh inquadrato l'autore del tiro avvenuto pochi istanti fa trascorre il tempo siamo giunti intanto al trentesimo minuto al quarantesimo minuto scusate amici di Milan Channel risultato ancora fermo sul 2 a 0 con i gol di Pietro Paolo Virdis e Marco Van Basten il tocco per Donadoni lascia Colombo ancora Donadoni vede il movimento di Colombo preferisce mettere il pallone in mezzo spizzica con la testa Van Basten sulla sinistra arriva poi Alberigo Evani il controllo palla indietro per Virdis che entra in area di rigore arriva sul fondo la finta rientrare poi l'intervento di Mabut in scivolata finisce a terra Virdis rimedia il corner una stretta di mano con l'avversario calcio d'angolo che verrà calciato da Alberigo Evani un quadrato ancora Virdis eccolo Evani portarsi sul bandierina lasciare poi il compito a Roberto Donadoni scambiano i due Donadoni va a mettere il pallone in mezzo il colpo di testa di Reichard in torsione è finito direttamente sul fondo Reichard è riuscito ad anticipare il difensore che lo marcava in modo davvero asfissiante però il contatto con la palla non è stato dei più positivi mettendo direttamente sul fondo Tottenham subito al contrattacco sulla sinistra il dribbling su Mussi di Stewart palla dentro per Walsh ha fermato ancora una volta in fuorigioco Tottenham che è costretto a rassegnarsi Milan alza la linea dei difensori costantemente non dando la possibilità agli avversari di inserirsi in maniera preoccupante per Giovani Galli adesso da Reichard a Baresi il tocco in verticale poi Colombo vede bene sulla sinistra Costa Curta Donadoni ancora in verticale a cercare Van Basten il tiro prontissimo di Marco Van Basten ha respinto Mims in qualche modo è riuscito ad intervenire con i piedi rivediamo l'opportunità per il Milan il grande tocco in verticale di Donadoni Van Basten costretto ad anticipare il difensore soprattutto il portiere con un intervento in scivolata si fa vedere intanto Colombo sul primo pallo Donadoni batte il colpo di testa liberare di Thomas poi su Walsh c'è l'intervento di Costa Curta lascia correre ancora l'arbitro l'1-2 di Van Basten con Mussi si impenna troppo il pallone Van Basten ha provato anche a raggiungere la sfera stessa ma non c'è riuscito per l'intervento di Mims ancora il grande Marco Van Basten inquadrato dalla regia qui invece Mims che si appresta a calciare il rinvio come al solito molto lungo staccano di testa i giocatori alla meglio adesso Waddle sulla destra ancora Evani per fermare l'avanzata del numero 9 la traversone sul secondo palo manca clamorosamente l'impatto con il pallone Stewart forse disturbato anche dal sole ancora il Tottenham adesso Allen ancora una volta salgono tutti i giocatori il pressing fantastico davvero vedere queste immagini delle maglie rossonere che salgono tutte in linea mettendo in grave difficoltà gli avversari qui intanto Mabut è chiuso nella morsa tra Franco Baresi e Alessandro Costacurta rimane a terra Franco Baresi un duro colpo al ginocchio forse proprio con Costa Curta vediamo se c'è il replay comunque nessun problema per il capitano Rieccolo l'intervento è se scontrato con il costato forse di Mabut Franco Baresi si riprenderà comunque con la punizione sul centro-destra adesso Waddle avvicino a Gascogne chiama lo schema Waddle parte Gascogne sul secondo palo il pallone stacca Virdis di testa poi il tiro al volo una grande invenzione di Fenwick che è riuscito a calciare prontamente di collo pieno con una sforbiciata dalla camera dietro si può vedere meglio il colpo di testa di Pietro Paolo Virdis a liberare e poi il tiro di prima che però non inquadra la porta difesa da Giovanni Galli lo stesso portiere va a calciare per rimettere il pallone in gioco stacca di testa Ferklo è finito anche a terra Rijkaard poi recupera il pallone lo fa anche Evani il pressing portato da Van Basten su Mabut sortisce l'effetto desiderato cioè l'alleggerimento verso il portiere ancora il Tottenham adesso Colombo cerca di intercettare il pallone lo fa anche adesso Virdis facendo salire la squadra Mims e arriva il fisco dell'arbitro sul rilancio del portiere è arrivato il termine del primo tempo inquadrato Marco Van Basten il protagonista assoluto di questa partita ricordiamo Milan Tottenham del 14 agosto del 1988 finisce qui il primo tempo amici di Milan Channel tra poco ancora insieme per le fasi della seconda parte ancora insieme amici di Milan Channel per seguire insieme Milan Tottenham gara che è stata giocata il 14 agosto del 1988 una delle prime partite della stagione nella quale il Milan ha saputo imporsi in Coppa Campioni siamo allo stadio di Wembley uno stadio storico che ha ospitato appunto questa sfida che ha aperto un po' la stagione rossonera il Milan è riduce dal campionato vinto nella stagione precedente 1987-88 e quindi gioca con il tricolore sul petto intanto è ricominciata la gara il secondo tempo con il Milan che attacca da sinistra verso destra nessuna nessun cambiamento tattico se non l'ingresso di Daniele Massaro maglia numero 14 per lui uno dei tanti uno degli immortali che è stato definito così da Adriano Galliani amministratore delegato rossonero insieme a lui Costa Curta Tassotti Baresi insomma una formazione che ha saputo imporsi in tutto il mondo ed è ancora il Tottenham quindi che è costretto a rimediare a due gol realizzati come già ricordato da Virdis e Van Basten nel giro di due minuti con due grandi azioni in velocità adesso va a controllare Mabot il pallone che è terminato in fallo laterale Virdis si porta verso il portiere Mims per evitare che il pallone venga giocato proprio a lui ancora Mabot al rinvio il controllo con il petto di Stewart giocatore che si è messo in mostra ma spesso e volentieri è finito nel corso del primo tempo in fuorigioco qui prova la penetrazione viene fermato da Franco Baresi è intervenuto l'arbitro va a redarguire verbalmente anche il capitano rossonero che si è posizionato fra l'attaccante del Tottenham e il pallone Baresi ancora richiamato dall'arbitro viene fatto cenno che il prossimo fallo lo vedrà ammonito Baresi intanto sorride con Marco Van Basten grande armonia per il gruppo di Arrigo Sacchi non è solo un modo di dire ma lo spogliatoio è importante per dare serenità al gruppo e per ottenere grandi risultati ancora una volta guardate come sale la difesa del Milan tutti sul portatore di palla e immancabilmente finiscono in fuorigioco i giocatori avversari in questo caso nessuno è riuscito anche ad intercettare il pallone che è terminato direttamente in fallo laterale Franco Baresi sorridente vicino all'arbitro annuisce Franco intanto si riprende con la punizione dopo il fuorigioco fischiato dal direttore di gara Evani il contrasto perso con Stewart palla dentro di Gascogno sulla destra per Waddle avanza il traversone al centro dell'area l'intervento di Walsh ancora una volta sotto porta e ancora una volta manca l'impatto positivo con il pallone rivediamo il replay della discesa di Waddle palla messa dentro e poi il colpo con il sinistro che è terminato direttamente sul fondo è la terza opportunità che si mangia incredibilmente il giocatore del Tottenham con la maglia numero 7 cioè Walsh qui invece è inquadrato Waddle il rinvio di Galli il colpo di testa di Virdis va a recuperare la sfera adesso Massaro il tocco in direzione di Mussi per Tassotti in verticale a cercare Donadoni lo stesso Donadoni che riesce ad intercettare ancora il pallone che aveva perso precedentemente Raikard al centro del campo attende che gli venga servito il pallone per ricominciare l'azione Virdis e preferisce lanciare subito verso Massaro che aveva provato a tagliare il campo con una diagonale adesso è Thomas largo sulla sinistra eccolo il giocatore numero 2 fisico statuario per lui non c'è più Angelo Colombo tra le maglie del Milan giocatore sempre molto generoso questa volta Sacchi ha dato un turno di riposo nel corso del secondo tempo a Colombo facendo entrare Daniele Massaro Waddell ancora adesso Costa Curta che chiama a sé un compagno per la rimessa con le mani palla lunga a cercare Raikard è stato fermato in fallo laterale ancora Costa Curta l'inizio della carriera di Billy è stato molto positivo ha debutato giovanissimo con la maglia del Milan intanto un grande colpo di tacco di Marco Van Basten che ha provato a portarsi via il pallone senza riuscirci però un gesto tecnico davvero di alta scuola dicevamo di Costa Curta che ha cominciato a giocare come esterno sinistro anche nella formazione del Monza alternava la posizione di centrale a quella di esterno sinistro e proprio in questa partita Sacchi lo ha impiegato sulla fascia sinistra eccolo Costa Curta attaccare Waddle con l'ausilio di Evani se ne va Waddle e la traversone alla centro dell'area di rigore stacca di testa Allen hanno la meglio però i giocatori rossoneri prima che Waddle torni ancora in possesso di palla un altro traversone la palla dentro stacca Stewart questa volta riesce l'impatto con la sfera applaud Waddle il numero 10 palla che però non ha impensierito Giovanni Galli praticamente inoperoso per tutto il primo tempo Galli che comunque dà una grande tranquillità una grande sicurezza alla retroguardia del Milan tantissimi gli anni passati con la maglia della Fiorentina e poi il passaggio a Milano portiere che ha conosciuto anche la nazionale adesso il lancio cercare Van Basten in velocità riesce a battere Faircloth il dribbling ancora di Van Basten all'interno dell'area di rigore dribbling prolungato poi palla dietro per Donadoni un'invenzione fantastica sulla sinistra cercare Evani si alza però ancora una volta la bandierina del guardaline forse proprio Chicco si trovava in fuorigioco forse un giocatore rosso-nero al centro dell'attacco sta di fatto che comunque l'azione è stata fermata Raikard disimpegno Subaresi di prima a cercare Costa Curta il tocco ravvicinato per Donadoni sulla sinistra adesso Evani manovra palla cerca di andare via Donadoni con le finte Costa Curta adesso il lancio in orizzontale preciso per il colpo di testa di Massaro all'indirizzo di Virdis le finte su Thomas Virdis fa viaggiare ancora Massaro che è riuscito ad entrare in contatto con il pallone poi è stato messo a terra da Ferclo ovunque si trova il numero 5 del Tottenham per fermare le avanzate dei rossoneri adesso Tassotti con un elegante controllo va a fermare il pallone ma c'è stato anche il fischio dell'arbitro per il fuorigioco di Walsh Rijkaard molto arretrata adesso la sua posizione l'ispiratore della manovra rossonera a partire dal centrocampo Frankie Rijkaard posizione centrale per lui anche nell'Olanda adesso Massaro il tocco morbido per Van Basten anticipato sorride Marco ramaricandosi anche di non essere riuscito a raggiungere quel pallone che poteva mettere in difficoltà in seria difficoltà ancora una volta il Tottenham risultato ancora di 2 a 0 dopo 8 minuti di gioco il controllo con la testa di Costa Curta palla che finisce in fallo laterale Waddle si incarica della rimessa in gioco ha lasciato poi a Mabut rimessa lunga con le mani il tocco di Walsh ancora per Stewart le finte di Stewart che cerca di tenere lontano anche con le mani Costa Curta ha provato a difendere il pallone il numero 10 del Tottenham un altro movimento intanto di Walsh dal fondo riesce a mettere dentro anticipo però di Giovanni Galli ai danni di Thomas un giocatore esterno che ama tantissimo proporsi in fase d'attacco abbiamo ricordato in precedenza nel corso del primo tempo dopo un minuto di gioco circa l'opportunità che è capitata proprio sui piedi di Thomas che da un metro dalla porta ha sparato alto con lo specchio completamente libero Raikard intanto lotta a centrocampo con Gascogne è costretto a tornare sui suoi passi poi palla dentro in verticale su Walsh subito pressato da quattro giocatori del Milan si alza ancora la bandierina per segnalare l'offside di Thomas è stato aggredito prontamente da quattro difensori del Milan questa ancora una volta la panchina del Tottenham è sullo sfondo i giocatori invece del Milan tutti riuniti praticamente in una sola grande panchina mister del Tottenham sembra un po' in tensione sperava di ottenere di più magari da questa partita contro i rossoneri che per quanto li conoscesse però sperava appunto di vedere giocare meglio la sua squadra ma questo non è caduto soprattutto grazie alla Milan fino a questo momento almeno l'attraversione di Waddle a cercare Thomas di testa poi l'intervento in recupero molto bene di Mussi Giovanni Galli con i piedi per Donadoni adesso è Tassotti posizione centrale per lui una posizione insolita per Mauro Tassotti che solitamente staziona sulla destra oggi invece Sacchi ha schierato Mussi in quella zona ha voluto provare anche qualche soluzione tattica fino a questo momento sono state davvero soddisfacenti le modifiche portate da Rigo Sacchi solito grande impegno anche da parte di Alberi Guevani Tottenham che prova ad uscire dalla propria metacampo c'è un fallo intanto che è stato fischiato dall'arbitro direttore di gara che non è stato molto impegnato nei primi 45 minuti per la correttezza che è stata portata sul campo Tottenham che fa girare ancora il pallone sulla sua tre quarti con Fenwick a cercare lungo Walsh che stacca di testa ancora Walsh larga sulla destra per Waddle punta costacurta riesce a saltarlo mette il pallone in mezzo ma anche l'intervento Giovanni Galli e poi Mussi è costretto a mettere in corner per evitare l'attacco di Stewart Giovanni Galli rimane a terra l'estremo difensore rosso-nero questo è il replay del contatto con l'avversario poi Mussi qui mette in calcio d'angolo si riprenderà quindi con il corner Franco Baresi è appostato sul secondo pallone in attesa però che si riprenda Giovanni Galli ancora una volta costretto ad entrare sul terreno di gioco il dottor Monti un momento difficile per l'estremo difensore rosso-nero questo ancora il replay da queste inquadrature forse si può vedere meglio il contatto con l'avversario Galli è stato colpito sul braccio forse sul costato vediamo se riesce a riprendersi Giovanni Galli che lo dicevamo prima è un giocatore che dà estrema sicurezza al reparto difensivo già costituito per la verità da grandi campioni grande personalità tutto pronto intanto per poter riprendere le operazioni di gioco si è ripreso alla grande Baresi sul primo palo il corner calciato da Waddle sul secondo il colpo di testa poi lo stesso Franco Baresi riesce a respingere sulla linea di porta di testa ha messo ancora in corner è stato molto bravo Stewart ad imprimere al pallone molta forza e rivediamo il traversone il colpo di testa che era indirizzato giusto sul palo protetto da Franco Baresi un altro corner calciato ancora da Waddle questa volta troppo basso respinge Massaro Waddle torna in possesso di palla sale perfettamente la difesa in linea del Milan si alza la bandierina del guardaline ma fa ampi gesti l'arbitro il direttore di gara segnalando che si può proseguire la palla era terminata fra le braccia di Giovanni Galli adesso Tassotti qualche istante per far trascorrere i secondi in attesa anche di trovare il compagno ha ceduto il pallone Raikard torna ancora Tassotti c'è largo Franco Baresi il disimpegno poi su Giovanni Galli che può recuperare il pallone con le mani partita che viene giocata il che è stata giocata il 14 agosto del 1988 nello stadio di Wembley una delle prime partite della stagione una stagione fantastica per i colori rossoneri alla termine conquisteranno la Coppa Campioni in una partita altrettanto entusiasmante giocata al No Camp di Barcellona vinta dal Milan sullo Steaua per 4 reti a 0 intanto il Tottenham ancora che prova ad avanzare sulla destra la rimessa in gioco di Mabble respinta da Tassotti ora è Waddle che prova il dribbling li riesce riesce anche a superare in velocità costa curta che poi lo ferma irregolarmente ha avuto un gesto di stizza inizialmente Waddle poi si è calmato subito ricordiamo che si tratta di una partita amichevole che il Milan comunque sta vincendo per 2 a 0 Waddle si appresta a calciare la punizione si fa vedere ancora Stewart al centro dell'area di rigore ha già colpito un paio di volte in maniera pericolosa Waddle tocca in direzione di Mabut il suo tiro respinto da Galli viene raccolto da Fenwick che va a dimezzare lo svantaggio Fenwick quindi accorcia le distanze sono passati circa 13 minuti dall'inizio del secondo tempo questo è il replay del tiro di Mabut non trattiene Giovanni Galli interviene poi in maniera vincente Fenwick fissando così per il momento il risultato sul 2 a 1 questo ancora è il replay del tiro e soprattutto del gol realizzato dal giocatore con la maglia numero 4 Fenwick ancora un replay che ci offre la regia il tocco ravvicinato con il piattone con l'interno che supera Giovanni Galli Milan 2 Tottenham 1 quando è passato un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo Milan che tornerà ancora ad attaccare la difesa inglese per il momento intanto si appresta il rinvio Mims inquadrato l'autore del gol Fenwick primo piano prolungato per lui grande gioia da parte del giocatore sicuramente per aver siglato una rete seppure inamichevole al Milan che è diventato poi campione del mondo quindi un gol assolutamente storico per il difensore inglese la traversone intanto di Thomas cerca di staccare di testa Waddle è fermato da Costa Curta poi Evanin verticale ferma tutto Mabut il tocco in orizzontale cerca di intervenire Gascon lascia il pallone ad Allen l'1-2 con Walsh palla dentro cerca lo stacco di testa il giocatore centrale si trattava di Stuart è arrivato poi dalle retrovie anche Thomas che ha messo il pallone direttamente sul fondo ecco inquadrato Thomas che torna ancora nella sua posizione di centrocampista centrocampista esterno sulla sinistra rivediamo il traversone scavalcato Stuart è arrivato poi Thomas che ha provato a centrare ancora il pallone mettendo direttamente sopra la traversa inquadrato intanto un giovanissimo Gascogne vicino a lui Donadoni Gascogne ha messo in mostra ha messo in evidenza anche in questa partita le sue doti tecniche che lo hanno portato poi ad essere anche uno dei grandi protagonisti di Italia 90 nel mondiale mondiale che è stato vinto dalla Germania e l'Italia riuscì a sconfiggere nella finale del terzo e quarto posto proprio gli inglesi che arrivarono quarti intanto rimane a terra Frankie Reichard un colpo al braccio per lui vediamo se ha bisogno dell'intervento del dottore Reichard che rimane a terra un contrasto duro con un avversario ha lasciato Reichard sul terreno di gioco questo è il replay il duro intervento di Ferlo poi è intervenuto anche Hilton e probabilmente il secondo tocco è stato quello determinante quello che ha provocato il dolore al centrocampista olandese inquadrata ancora la panchina questi sono i dirigenti inglesi del Tottenham sullo sfondo invece i giocatori del Milan sulla destra è riconoscibile anche l'antignotti Christian l'antignotti che nel 1988 era una delle grandi speranze rossonere tante le presenze per lui nelle amichevoli in precampionato poi la carriera di l'antignotti si è sviluppata soprattutto in Serie B intanto la punizione per il Milan con Donadoni sul pallone vicino a lui Daniele Massaro Donadoni attende il fisco dell'arbitro Massaro adesso il disimpegno indietro per Tassotti lancio in verticale a cercare proprio Donadoni per due volte il pallone è stato respinto dai difensori Virdis in contrasto con Allen lo stesso Virdis recupera il ritorno di Allen riesce a respingere poi in qualche modo anche Mabut un'azione un po' più concitata rispetto a tante altre di questa partita si è lottato sul pallone per avere la meglio per avere il possesso della sfera inquadrato adesso Waddle primo piano per lui il fallo è stato fischiato proprio per il fallo commesso sul giocatore con la maglia numero 9 il rilancio adesso di Mabut in verticale il controllo con il petto di Stewart intervento di Raikard non frena l'avanzata di Waddle il traversone respinto da Franco Baresi che adesso esce dalla propria area di rigore va anche in sovrapposizione sulla sinistra Franco Baresi riceve adesso da Donadoni ancora Baresi per Donadoni palla centrale a cercare Massaro il controllo di fronte a lui Jutton il traversone di Massaro il colpo di testa di Virdis che termina debolmente tra le braccia di Mims velocemente rimette subito su Gascon con il sinistro in verticale un pallone sporco respinto da Baresi poi Donadoni attaccato alle spalle da Mussi a Massaro al centro del campo si fa vedere riceve Raikard che sventaglia sulla sinistra a cercare Evani il controllo ha di fronte a sé il capitano della formazione del Tottenham Donadoni ancora per Evani reclamano il fuorigioco gli inglesi Evani è costretto a difendere il pallone è costretto addirittura a giocarlo indietro dove c'era Costa Curta da Raikard adesso il gioco viene allargato sulla destra per Mussi un'altra sovrapposizione è quella di Massaro l'1-2 con Virdis palla troppo in profondità Virdis è costretto a ripiegare adesso perché c'era fuori Mussi che aveva tentato l'1-2 in precedenza ferma ancora tutto in maniera magistrale Frankie Raikard poi in verticale a cercare Van Basten anticipato da Mims l'uscita del portiere questa volta è stata importante è stata determinante primo piano ancora per Pietro Paolo Virdis l'autore del gol che ha sbloccato questo match siamo giunti intanto al ventesimo minuto di gioco quasi a metà del secondo tempo Milan ancora in vantaggio ma Tottenham che ritenta ancora una nuova avanzata il controllo di Allen attaccato da quattro giocatori riesce a disimpegnarsi su Waddell prova la penetrazione viene fermato da Frankie Raikard al centro del campo senza fallo però questa è la decisione del direttore di gara Milan che attacca sulla sinistra adesso con Evani palla dentro in verticale cercare Donadoni fermato da Fairclou ora Gascon rallenta le operazioni di gioco Gascon allarga poi sulla sinistra riceve Newton l'1-2 con Walsh giocatore che si è mosso moltissimo nel corso di questa partita ha avuto due o tre grandi occasioni per andare anche in rete non è stato però bravo nel sfruttarle Van Basten adesso ha saltato bene due avversari ora Raikard un'occhiata sulla destra a cercare Massaro il controllo con la coscia poi la palla era per Wierdys è stata intercettata da Thomas lo stesso numero 2 porge palla ad Allen che viene fermato fallosamente questa volta da Raikard ripartono gli inglesi sulla sinistra con Hilton ha di fronte a sé Tassotti l'1-2 con Thomas molto profondo il pallone di ritorno giocato da Thomas per Hilton azione si è persa sul fondo vediamo però la decisione dell'arbitro c'era forse un calcio di punizione per il Tottenham è stato fischiato un fallo di ostruzione ai danni proprio del numero 3 inglese questo l'autore del fallo Mussi che probabilmente lascerà il campo vediamo chi entra al suo posto seguiamo da vicino questa sostituzione Arrigo Sacchi provvede a cambiare i giocatori ed entra Bianchi Walter Bianchi maglia numero 13 per lui un giocatore fortemente voluto da Arrigo Sacchi non ha avuto grande fortuna con la maglia del Milan Arrigo Sacchi conosceva molto bene Bianchi intanto uno sguardo gelido di Galli ai danni di Thomas che non ha fermato la sua corsa nonostante il portiere rosso-nero avesse già conquistato la sfera ecco il numero 2 del Tottenham Thomas rinvio lungo adesso di Giovanni Galli lo stacco di testa proprio di Thomas poi quello di Stuart ha toccato il suo primo pallone poi Bianchi appoggiandolo a Giovanni Galli da Evani a Baresi in verticale a cercare Donadoni il tocco con l'esterno per Alverigo Evani Baresi adesso Milan che rimane ancora nella sua metà campo cerca di gestire il controllo del pallone Evani in verticale a cercare Donadoni in velocità il contrasto poi con la spalla non c'è fallo dice l'arbitro viene fischiato poi un secondo contrasto di Donadoni con Fenwick l'arbitro si è anche avvicinato lo stesso Roberto Donadoni simpaticamente ed ora si ricomincia con il Tottenham che attacca sulla sinistra con Juton in verticale il pallone contrastato da Massaro poi Van Basten si fa vedere in mezzo Massaro palla dentro invece per Virdis ha la possibilità di calciare in porta Virdis riesce a mettere in difficoltà ancora una volta Mims che devia il pallone sul palo una grande opportunità ancora per il Milan la palla di Van Basten a cercare Virdis un'occhiata alla porta e poi il tiro diretto verso lo specchio è deviato da Mims sul palo fortunato il Tottenham in questa occasione adesso Donadoni dalla bandierina palla dentro si coordina Van Basten riesce a calciare e indirizzare il pallone verso Mims il tiro però risulta sporco e a buon gioco quindi la difesa del Tottenham ha inquadrato il portiere l'estremo difensore inglese che va al rinvio lungo colpo di testa adesso di Donadoni poi quello di Virdis Gascon in possesso di palla sulla tre quarti si fa vedere largo e riceve Stewart palla dentro il traversone per Walsh ancora una volta in scivolata e poi un altro tocco incredibilmente sbagliato di Thomas che non ha molta dimestichezza con il tiro in porta è già il terzo tentativo del numero due inglese che non va a buon fine Massaro intanto prova a superare Fenwick viene messo a terra tutto regolare lascia correre l'arbitro il dribbling poi di Stewart sulla destra ha saltato Netto Evani ancora Stewart si porta al limite dell'aria interviene bene Bianchi poi c'è la trattenuta forse di Stewart che addirittura si porta la sfera sul fondo inquadrato intanto dall'autore dell'azione precedente meglio dell'occasione mancata Walsh che adesso viene richiamato dal mister in panchina una grande opportunità per il Tottenham che è andato vicino al pareggio intanto entra Paul Moran maglia numero 17 per lui al posto di Walsh quindi seguiremo Moran al posto dell'attaccante inglese Walsh che si è mangiato come già ricordato almeno tre ottime palle gol Van Basten subito dentro a cercare Virdis il contrasto vincente ha favorito per un attimo Massaro poi respingono i difensori ancora inglesi Donadoni allarga sulla sinistra dove c'è l'avanzata di Bianchi per Donadoni un'altra grande giocata far correre ancora Bianchi sulla sinistra arriva vicino al fondo Marco Van Basten prova la girata di testa respinta però da Fenwick ancora il Tottenham la respinta poi il rilancio lungo di Fairclow controlla il neo entrato poi il lungo rilancio di Mabut sulla sinistra Stewart palla dentro una buona opportunità adesso per Waddle anticipato dall'uscita di piede di Giovanni Galli che torna all'interno della propria area di rigore il Milan è stato leggermente schiacciato nel corso di questo secondo tempo ha saputo però controllare molto bene le avanzate degli inglesi e quando è entrato in possesso di palla ha portato attacchi seri pericoli veri verso la porta difesa da Mims intanto il lancio di Gascogne termina in fallo laterale il Tottenham continua ad attaccare deve raggiungere il pareggio ricordiamo il risultato ancora di 2 a 1 grazie ai gol messi a segno per il Milan da Virdis e da Marco Van Basten due gol nel giro di un minuto e mezzo circa hanno dato la possibilità al Milan di Arrigo Sacchi di imporsi anche in questa partita intanto il lancio a cercare Van Basten fermato in posizione irregolare fuori gioco per lui dichiarava la sua innocenza al guardaline indicando che si trovava dietro la linea dei difensori così non ha deciso l'arbitro poi la punizione di Faircloth respinta dalla retroguardia rossonera direttamente in fallo laterale però stadio di Wembley che ospita due formazioni storiche del calcio mondiale per aprire la stagione davvero alla grande rimesso in gioco già avvenuta intanto è Faircloth che allarga per Hilton il disimpegno su Mims recupera il pallone con le mani l'estremo difensore inglese il lungo rilancio che rimbalza sul terreno già nella metacampo del Milan a Tassotti in scivolata finisce poi a terra Stewart giocatore molto mobile lo abbiamo visto più volte all'interno dell'area di rigore sui traversoni sulle palle da fermo ma è un giocatore che predilige le giocate a terra andando a recuperare il pallone provando ad impostare lui stesso l'azione d'attacco intanto Baresi cede il pallone a Frankie Reichard attende lo spostamento di qualche compagno Baresi è stata intercettata la sfera riparte Gasconio sulla destra tiene lontano Donadoni adesso il traversone l'intervento determinante ancora una volta del capitano di Franco Baresi poi Costa Curta mette fuori per la rimessa laterale di Waddle con le mani attende l'arrivo di un compagno Waddle per Stewart ancora Waddle le finte il traversone colpo di testa liberare di Tassotti adesso Reichard controllare con il petto fa viaggiare sulla sinistra ancora Marco Van Basten il cui controllo è leggermente difettoso si è lasciato ancora una volta dietro il pallone un problema dovuto al terreno di gioco intanto Gasconio sale la difesa del Milan ma Gasconio viene attaccato irregolarmente da Costa Curta e da Baresi da qui la punizione fischiata dall'arbitro direttore di gara che non ha avuto un compito proibitivo nel corso di questa partita una partita giocata con estrema correttezza da parte delle due squadre è importante non subire infortuni all'inizio della stagione le squadre devono trovare ancora la condizione migliore adesso intanto Mims che con le mani mette in movimento Fenwick porta palla il centrale del Tottenham arriva sulla linea di metacampo allarga sulla destra il lancio poi subito in verticale di Waddle pallone che è preda di Galli ora Costa Curta che è stato spostato sulla destra l'ingresso in campo di Walter Bianchi ha determinato quindi un cambiamento tattico non determinante ma Sacchi ha voluto comunque mettere il giocatore sulla sinistra e spostare Alessandro Costa Curta sulla destra intanto il lancio in verticale di Virdis termina in aria di rigore ancora una volta Ferklo che non è solo l'uomo che va a spezzare le trame dei rossoneri è proprio lui che imposta l'azione a partire dalla difesa adesso Hilton poi il disimpegno di Fenwick il passaggio per Mims e adesso il rinvio lungo calcio lontano Mims svetta di testa ancora Frankie Rijkaard e il pallone torna ancora una volta a Mims inquadrato Frankie Rijkaard primo piano per l'olandese ancora protagonista di un colpo di testa quasi tutti i suoi palloni al centro del campo poi in verticale Van Basten viene trattenuto per la maglia poteva essere un'ottima opportunità da gol Van Basten trattenuto viene richiamato il giocatore avversario vediamo di chi si tratta forse di Fairclou inquadrato intanto il direttore di gara la punizione calciata da Donadoni per Rijkaard il dribbling dopo l'uscita di Fenwick costa curta adesso allarga sulla destra Massaro si fa vedere ancora una volta Rijkaard di prima ottimo il taglio per costa curta che arriva sul fondo reclama il corner però il guardalinea ha indicato l'area di rigore quindi costa curta ritorna in fase difensiva senza aver conquistato il corner ma è stata un'altra grande giocata di Rijkaard e soprattutto un grande movimento di Billy a determinare l'azione precedente del Milan il colpo di testa poi di Tassotti Massaro lotta sulla destra palla in direzione di Rijkaard fermata da Allen Tottenham che prova ancora l'avanzata sulla sinistra ancora con Allen palla dentro a cercare Thomas nettamente in ritardo il numero due inglese controlla agevolmente Franco Baresi Milan che ha diminuito forse gli attacchi controllando di più la partita e soprattutto controllando con estrema sicurezza le avanzate degli inglesi Giovanni Galli adesso con i piedi da fondo campo fa trascorrere qualche secondo rimessa lunga Virdis con l'esterno si fanno vedere sia Virdis sia Evani adesso c'è il taglio anche di Donadoni mentre si allarga Virdis Donadoni da solo ma viene fermato in posizione di fuorigioco una grande giocata da parte del Milan ancora una volta con Donadoni che ha ispirato la manovra poi il taglio di Virdis ed Evani ha permesso alla Nura 7 rosso nero di trovare un varco nel quale inserirsi e ricevere il passaggio di ritorno ora ancora il Tottenham si fa in avanti cerca Thomas di far qualcosa di buono poi riesce a calciare ma il tiro termina debolmente tra le braccia di Giovanni Galli Baresi ancora Galli si rimane all'interno dell'area di rigore Galli richiama Costa Curta consiglia al difensore rosso nero di salire adesso Raikard si trova in qualunque posizione il centrale del Milan Frankie Raikard adesso è l'ultimo uomo addirittura del Milan ancora Raikard che va a recuperare il pallone sulla linea dell'area il tocco poi vicino per Galli e trascorrono intanto i minuti siamo giunti vicini al quarantesimo minuto di gioco Van Basten in contrasto aereo viene messo a terra non c'è fallo dice l'arbitro si prosegue con Juton il lancio subito in verticale Tassotti controlla l'avversario poi ancora Thomas il traversone il controllo con il braccio in maniera evidente di Stuart non è stato ravvisato il fallo da parte dell'arbitro un fallo evidente l'arbitro però sembra non essersene accorto Thomas riesce a tenere vivo il pallone lo gioca poi in dietro Massaro anticipa l'avversario ancora Massaro che non può far nulla su questo pallone di ritorno di Marco Van Basten che ha provato ancora una volta la verticalizzazione Milan prova ancora una volta a portare il pressing sulla zona dove i giocatori del Tottenham cercano di gestire il pallone spesso Arrigo Sacchi si fa sentire in panchina alza la voce per incitare se mai ce ne fosse bisogno gli undici campioni che sono sul terreno di gioco Costa Curta adesso si fa vedere Baresi riceve un'occhiata in verticale adesso Van Basten costretto a retrocedere c'è sulla sinistra Walter Bianchi stava per ricevere il pallone di Marco Van Basten e poi Bianchi riesce a recuperare ma c'è l'intervento falloso di Frankie Reichard su Waddle che rimane a terra l'intervento falloso sembra prendersela con il giocatore rosso-nero Waddle non accetta neanche le scuse adesso Ferklo Frankie Reichard il lancio in direzione di Thomas con una torsione riesce a servire il giocatore che è entrato da poco ma poi c'è il contrasto aereo tra Evani e Stewart seguiamo il traversone Giovanni Galli controlla che la sfera esca sul fondo del campo arrivano gli applausi del pubblico londinese questo è il dribbling di Stewart ai danni di Evani il traversone e poi Giovanni Galli ha controllato solamente la traiettoria della sfera non è stata toccata la palla Zoppi che intanto Stewart ha forse un problema per lui dopo aver crossato richiama intanto l'attenzione di un compagno richiama l'attenzione di Waddle come abbiamo già detto Stewart è un giocatore che ama andare a colpire di testa sui palloni inattivi e adesso sulla sinistra ancora Waddle il traversone ottimo al centro ma l'intervento ancora preciso puntuale di Franco Baresi che mette in corner si porta come sempre sul palo Franco Baresi per coprire quella porzione di campo inquadrato il giocatore che si appresta a calciare cioè Chris Waddle dalla bandierina i giocatori inglesi per tradizione sono davvero temibili sui traversoni con palloni tesi che arrivano costantemente nelle aree avversarie il pallone non raggiunge l'area questa volta è stato respinto da Donadoni si lotta ancora canitamente sulla sfera riesce Donadoni ad intercettare riparte veloce Daniele Massaro Milan che esce ancora dalla propria metà campo il pallone di Massaro in diagonale a cercare Alessandro Costacurta tornato sulla sinistra per l'occasione ancora Costacurta e il disimpegno indietro per Raikard Virdis le posizioni dei giocatori rosso-neri sono cambiate nel corso di questi secondi Donadoni adesso si trova sulla destra Virdis in posizione centrale ma c'è il taglio proprio del giocatore con la maglia numero 11 il grande movimento di Van Basten e Virdis al centro dell'attacco poi Costacurta prova e le tiro in porta è una grande sventola che termina alla sinistra di Mims buona l'iniziativa di Costacurta autore di questo tiro in porta una grande sventola che ha lambito il montante alla sinistra del portiere inglese trascorre ancora il tempo Milan sempre in vantaggio per 2-1 allo stadio di Wembley partita lo ricordiamo del 14 agosto 1988 Varese adesso in possesso di palla a cercare Costacurta tornato sulla destra ancora Rijkaard il dribbling e Dani di Gascogna davvero una diga insormontabile quella creata dall'olandese a centro campo Van Basten adesso per Costacurta un altro lancio preciso di Billy per Bianchi che fa correre Evani sulla sinistra un'occhiata però al guardaline che ha segnalato la sua posizione irregolare un altro fuorigioco del Milan ma chi è terminato più volte in fuorigioco in offside nel corso di questa gara e nel corso di tutte le gare che hanno visto giocare il Milan è stato il Tottenham così come tutti gli avversari una difesa comandata in maniera esemplare da Franco Baresi il fuorigioco quando chiamato dal capitano è sempre salito in maniera puntuale mettendo davvero in difficoltà intanto guarda il tempo uno dei dirigenti della panchina del Tottenham preoccupato perché vede davvero difficile la situazione per i suoi difficilmente il Tottenham potrà recuperare il Milan sta chiudendo bene tutti i varchi e ultimamente nel corso di questi ultimi minuti comincia anche a tornare verso la porta di Mims Rijkaard il suo taglio Baresi ha preferito allargare sulla destra in direzione di Costa Curta Van Basten adesso ancora Van Basten che prova ad aggredire il centrale si trattava di Mabut adesso Mims il suo lungo rilancio il controllo da parte di Stewart svetta di testa Franco Baresi Gascogna recupera lascia a Dallen sulla destra ancora Waddle giocatore che predilige quella zona di campo per poter sfruttare le sue doti fisiche e arrivare alla traversone intanto dentro la palla ma c'è ancora una volta Franco Baresi a fermare le operazioni d'attacco del Tottenham un altro cross di Waddle sul secondo palo interviene Costa Curta recupera Thomas in area di rigore il traversone ancora il Milan che si difende Tottenham che con Waddle porta un altro attacco adesso ripartono in contropiede rosso-neri con Evani Massaro si fa vedere la palla centrale per Raikard sulla destra va a cercare Marco Van Basten ha spazio davanti a sé preferisce appoggiare ancora Raikard va a chiudersi poi la difesa del Tottenham e il Milan adesso gestisce il pallone con Raikard Costa Curta palla dentro per Van Basten intercettata da Newton il Milan a buon gioco però ancora in fase difensiva Donadoni inesauribile sulla fascia il tocco poi per Virdis in verticale pallone leggermente lungo che ha agevolato l'uscita di Mims i complimenti di Virdis per il compagno per Donadoni adesso attaccato alle spalle Fenwick costretto al rinvio frettoloso Stewart difende la palla dalla pressione di Bianchi e Tottenham che prosegue nel possesso di palla non crea assolutamente nessun pericolo fin quando gioca la sfera a metà campo adesso Rijkaard con l'esterno sulla destra per Van Basten e di fronte a si a Juton ancora Rijkaard e arriva il fischio finale amici di Milan Channel il Milan il 14 agosto del 1988 ha vinto quindi nello stadio di Wembley contro il Tottenham protagonisti di questa partita gli autori del gol Virdis che ha sbloccato il risultato e Marco Van Basten che ha raddoppiato per il Tottenham è andato in gol Fenwick accorciando solo le distanze si chiude anche questo appuntamento con Milan Classic un saluto da Claudio Lippi e una cordiale buona serata grazie a tutti i nostri